Musica 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 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa notte del anger clip Sono sempre io LuigiN65 E quest'oggi siamo nei server WorldCraft Ehm Per vedere un po' Che basso uno Non mi piacciono molto A parte che hanno come admin Mi fa per Dolan's Creek Ice Q7-1-1 Perchè sono fanata da chi spiegarsi Ma non lo raccandate Ehm E poi perchè non ci sono kit premium Ossia ci sono Però solo se vincere una partita Ehm Non mi piace No Indecisamente perchè tipo tu fai una partita Troppo pro Troppo epica E all'improvviso divenne uno che ha vinto prima A culo Se si può dire Che ha vinto prima con un kit pro E ti uccide Ecco Ecco Perciò Intanto mi piacciono Intanto mi piacciono Invece negli SFX Voi vedete se cazzo vedo Ehm 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 Ah Siamo col kit archer Perchè Neanche i kit qua ci sono conti C'è si Non mi piace Quello che mi piace è un po' di più l'archer Che poi l'archer pro è tipo terrorist che fa un cagare C'è proprio gioco azzelo quando non ci sono server liberi non si serve Fà schifo che si serve Antonio Antonio Anno Antonio Non mi fa fallo Ha ti ho fappato ehm che cazzo il dico si ma se io vi è 18 so farò non mi fatti sono oggi sto fede di cupo di tutto tutto il mondo dell'acqua ti fotte lo sono schiena acquaio quindi fede di coi test e il e vedi, lo vedi, lo vedi madonna come lo ha fatto, io no, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo che ti è questa partita la carico sì 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 così 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 mi serve, ciò oh cazzo ne vedo io eccolo vedo come l'ho scelta dove sto questo cazzo prende uno, prende un altro ok i i i i i i i ah ma non è che ti devo... è di sottare vai 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 vediamo in foto vedi e no e no perchè scappano tutti? c'è una patina incontro alcuni che sfaccano che sfappano c'è proprio uno sfappano che... ecco noi di là quando ti prima ti devo cittare ma perchè? che cazzo mi chiedi a scappare? c'è un'altra seconda a scappare o no sto morendo di fame eh si, anche io e quattro cosce di pollo di pollo puro essere idemà ma che cazzo oh cazzo cammina così no 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 falzo stai a partite la carico solo perchè ho fatto quella di 18 amico Perché io l'avevo premesso che lo facevo Madonna che palle, non posso correre No No Veramente Veramente ha morto per fame Oh cazzo non posso fare questo Se correte che cazzo No no anche io Merda Merda No merda No merda Tivo tanto Merda Sì come lo prende Ragazzi sta partita è epica Dove l'ho preso LOL Che cazzo Si muore tutti per la fame E cammino Che cazzo di pecore Guarda ti è sciolto non ti preoccupare No 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 Madonna non ho 200 blocchi No 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 No